La depressione presente sul centro Italia si va lentamente colmando. Da domenica giungerà aria gelida proveniente dal nord Europa, spinto da un anticiclone che si è spinto oltre la Scandinavia. Per sabato prevediamo cielo tra poco nuvoloso e variabile sulla nostra regione, con maggiore nuvolosità sul Tardisiano e sulle Giulie, dove avremo anche a tratti un po' di nevischio. Sulla costa soffierà bora forte durante il giorno e moderata in pianura. Le temperature massime saranno attorno agli 8-10 gradi su pianura e costa. Verso sera inizierà a soffiare bora molto forte sulla costa e sulle prealpi carniche, al confine con il Cadore, sarà possibile anche qualche leggera nevicata. Domenica mattina temperature già piuttosto basse sulla regione, quindi sarà già alta fredda, il cielo sarà inizialmente variabile, poi sereno in giornata. Temperature massime non supereranno i 1-2 gradi positivi, quindi saranno temperature attorno allo 0, forse anche rimarranno sotto lo 0 sulla costa, dove continuerà a soffiare bora molto forte, con raffiche tra i 120 e i 130 km all'ora. Anche lunedì e martedì avremo ancora giornate variabili, ma fredde, con bora sulla costa. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Ligo Stefanuto.